Ferro azzurro ama Anacota Ciai, Anacota Ciai, 10.000 Anacota 46 e fammi sapere come aprono le opzioni. Mr. Trend, consigli di economia e finanza per tutte le tasche, su RTP. Le spazzasoldi vanno e vengono con ogni mercato al rialzo, i sistematici seri superano ogni ribasso. Ed eccola la nostra campana, la campana del lunedì che in realtà è anche la campana della borsa, dei mercati, della finanza, dell'economia, soprattutto la borsa. Ricomincio. Soprattutto la campana di Mr. Trend. Mr. Trend, buongiorno, buon lunedì, bentrovato. Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Non la sento. Non mi sente? No, è davanti a due microfoni eppure... Adesso mi sente? No. Facciamo così, così mi sento. Adesso, oh là là, mi volevano boicottare la trasmissione. Questa è la concorrenza, eh? Che miseria. Vorrei capire poi perché dalla domenica sera al lunedì mattina qui si ferma tutto. Eh, vabbè, ma questo è lunedì, insomma. Eh, davvero. Devo dire che, vabbè, cosa diciamo? Vedi che l'ho detto. L'ha trovato? No. No, però stavo dicendo una cosa e mi sa che stasera. Ecco. I sistematici, già una sigla, dicono che i sistematici seri superano ogni ribasso. Sono preso d'appunto, eh. Come va la borsa oggi? Come va la borsa oggi? Capepa, vabbè, nello sapevo. Orca peppa, devo dire che... Orca peppa. Orca peppa. No, 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 allora, Mr. Trent non dà mai consigli di borsa, giusto? No, no, beh, ma... Non diamo consigli di borsa, eh, così. In base all'andamento. Informiamo le persone. Allora, orca peppa, sì, Mr. Trent dice orca peppa. Attenzione. Vabbè, no, c'è la notizia del televideo. Cos'è la borse? Adesso non vediamo se è NBC, vediamo un po' le borse, cosa hanno combinato. Asia, cosa hanno combinato le borse? Sono andate giù un pochettino. Sto petrolio che piace tanto a noi utilizzatori dell'autovettura... Com'è che dicevamo? Spetti, missis. Oil WTI, quindi quello che è quotato Nord America e Canada, anzi viene estratto, quindi quel tipo di olio, siamo a 64.66, abbastanza, o 0.80, mentre il Brent, che è quello che viene quotato invece sul mercato di London, quindi estratto nel mare in alto, da noi è 68,90, quindi il 70 l'abbiamo proprio abbandonato. Mamma mia. E in effetti... Sì, però quando vado al benzinaio... Io questa povera Missy Stain continuo a non sentirla, vorrei capire il perché. Notizia di CNBC, può l'olio prendere la via dei 40 dollari? Porca peppa, ragazzi. Un'altra peppa. Notizia passa sul sito CNBC, è notizie economiche USA. Allora, entriamo un po' di più nel dettaglio, Mr. Trend. Che cosa sta succedendo stamattina che la vediamo un po' preoccupato? No, questa è una cosa molto personale. No, vabbè, c'è stata la borsa, abbiamo sempre attivo l'indicatore di Mr. Trend, che si è creato un indicatore, Mr. Trend FBL, e quindi per chi così non è molto avvezzo alla borsa, vuole avvicinarsi alla borsa, visto che i mercati hanno mercato reddito fisso a tassi bassi, poi se abbiamo tempo prendiamo un discorso anche del BTP, è chiaro che se uno si avvicina adesso, io tengo sempre attivo il mio indicatore FBL, quindi fa balla lodge, non mi sembra proprio il momento. Siccome avevamo questo laterale su area che si fermava intorno a 19,8, sta giocandoci, vedete? Però stamattina mi sembra che voglia provare a rompere questo valore dell'indice Futsmib, e quindi se rompe, dobbiamo tornare, come dice la nostra sigla, i sistematici seri superano ogni ribasso. Quindi probabilmente… Cosa vuol dire i sistematici seri? Quelli che hanno un sistema di investimento testato. Ecco, questa è una brava domanda, così adesso usciamo dal tema e facciamo tutto un altro discorso. Vannaggia a me! Secondo me, parere puramente personale. Chi si avvicina sui mercati azionari dovrebbe trovare un sistema di investimento che sia leggermente diverso dalla singola notizia o la singola rumor, che vuol dire più o meno quella notizia, c'è quel titolo mandetto che quel titolo sale. Perché? È vero che se noi compriamo quel titolo mandetto che sale, sale e portiamo a casa i soldi, abbiamo ottenuto l'obiettivo che volevamo. però secondo me bisognerebbe avvicinarsi ai mercati azionari o ai mercati finanziari con un'analisi più di macro su quel mercato può avere un buon andamento, quindi non devo per forza andare a scegliere il singolo titolo. È un passo un po' più avanti secondo me della scelta del singolo titolo perché quel titolo mandetto che può fare. Probabilmente è più una scelta di quel settore o quel mercato azionario di quella nazione piuttosto che un'altra può avere un ritorno, perché la ricerca della notizia io non imparo un metodo mio, ma devo continuare a andare a cercare qualcuno che mi dice il rumor. Forse è un po' pericolosino. Adesso lì mi dicono, non so se c'è la storia del voce, se devo controllare. C'è Ferrari, quotano Ferrari, Ferrari va su, Ferrari va giù. Ho sentito, investiamo in Ferrari. No, per l'amor di Dio, azienda che va molto bene può avere senso. Allora, può avere senso dire faccio investimento in Ferrari perché, ok, azienda comunque con un mercato ben definito, azienda che comunque ha un suo brand tra i più riconosciuti al mondo e quindi quella può essere una scelta. Diciamo bene, investo su Ferrari perché investo su un'azienda di un certo tipo. Però ecco, è la ricerca della, come se fosse un mercato, non so, non me ne intendo di storia, da carbonari, cioè ho avuto la notizia, io ho la notizia e te no. Cioè le notizie uno apre 25 mila siti, ci sono indicatori che dicono economia che sale, economia che scende, spread basso, spread alto e a questo punto, da quel punto di vista lì allora iniziamo a capire dove fare gli investimenti. Ecco, a prescindere dalla notizia, come se fosse una notizia di sottobanco, che tu sai qualcosa in più che gli altri non sanno. Certo. È vero che siamo nei mesi di dicembre, più un giorno di dicembre, però c'è Babbo Natale, ok, però insomma non dobbiamo crederci sempre a Babbo Natale. Ecco, benissimo. Fondamentale l'esistenza di Babbo Natale. Noi magari a fine puntata diamo un'occhiata a come sta andando nuovamente la borsa perché abbiamo aperto dicendo che ci sono dei saltellini che non piacciono tanto a Mr. Trend. Oh sì, adesso l'indice Fuzzme, siamo sul sito di Borsa Italiana per cui quotazione abbastanza in tempo reale, ecco. Adesso vedo un meno 1,04 ecco. C'è questo 19,8 che però non mi piace se deve romperlo, vabbè insomma. Beh beh, tac, ora aggiornato, meno 1,48. Ecco. Iaiaiaia. Eccoli, 19,7, 17. Oh place. Ecco, Mr. Trend l'aveva detto 5 minuti fa, eh, attenzione. Cos'è che ho detto? La peppa, né? La peppa. Ops. Vabbè, no, beh, allora, questo petrolio, andiamo a prenderli un po', perché c'è un po' tutto. Sto ben detto il petrolio. Allora, è vero che, cioè, per chi, sotto i discorsi, per chi va a fare benzina dice, che il petrolio basso va bene. Ok. Però, il problema è che, allora, uno potrebbe essere che se comunque il prezzo scende così tanto, facciamo un discorso molto macro, i compratori ce ne sono pochi. Certo. Perché sotto i discorsi, se tante persone vogliono le mele, può essere che il prezzo delle mele salga. Certo. Ok. Se invece ci sono tantissime mele, ma le vogliono in pochi, uno per vendere abbassa il prezzo. Quindi questo è il primo discorso. Cosa ci interessa? Potrebbe essere un discorso che se comunque comprano poco petrolio, la ripresa economica non è così forte. Questo che ci interessa di laterale, non è che ce ne frega poi del petrolio in quanto tanto. Di laterale. Cioè, devo fare la conseguenza del qual è il problema se il petrolio scende. Esatto. Il problema potrebbe essere che l'economia non è così forte. Quindi questo è un primo legame. Chiaramente, l'avevamo già detto tempo fa. Volevo dire, non pensiamo al petrolio solo come andiamo a fare benzina per le auto. No, potenzialmente il petrolio serve per le centrali, serve per le industrie. Per cui ha chiaramente più utilizzi il petrolio. Dall'altra parte, nessuno me lo toglie, e certi giornali lo dicono, che ormai ci sono dei paesi in cui le guerre se le sparano a bombe e ci sono, secondo me, delle altre situazioni in cui l'economia fa, c'era forse adesso, uscirà forse un film ultimamente di un grosso trader tedesco, visto che la pubblicità, dove in effetti nel momento in cui ho tanti soldi, li prendevano il caso della Grecia, non mi dai, non fai quello che voglio io, va bene, io ti tolgo la liquidità, ti tolgo la spina e tu vai gamba all'aria. Per cui è come se fosse una guerra. La Russia, l'hanno detto precedente nelle altre puntate, ha il suo bilancio dello Stato con un pareggio, cioè riesce a pagarsi tutte le spese come Stato. Se l'olio, adesso ho visto scritto oil, se il petrolio è a 92, siamo a 65, lo Stato Russia, se va avanti la cosa un po' lungo, qualche problemino potrebbe averlo. Ce l'ha, certo. L'OPEC, che è l'unione dei paesi arabi che produce petrolio, dice che non modifica la sua produzione, cioè mantiene la produzione stabile, quindi butta fuori l'olio e il petrolio che c'è, andiamo a vedere. L'altro discorso che questo potrebbe essere, ok, poi vedremo se troviamo anche qualche filosofia poi di investimento nelle prossime puntate. Io ho risparmiatore che a questo punto non sono sul mercato del petrolio, cioè io non ho investito sul petrolio. Questa situazione può, diciamo, tornarmi utile? Secondo me sì, è il prezzo del petrolio che ha fatto segnare, vediamo se è il prezzo della borsa che ha fatto la discesa, allora mi arriva il segnalino, il cicalino. Cioè può a questo punto essermi utile? Essermi utile. Secondo me a questo punto, non entrare adesso, ma comunque viene a dire iniziare a seguirlo. Ah ok, avvicinare. Il solito discorso, non sappiamo mai quando è il minimo di un mercato, perché siamo come Silvan adesso che fa la reclam, però potrebbe essere il momento in cui sta avendo un calo così grosso e non mi viene, non mi sembra che ci sia ancora tante energie rinnovabili che possono metterci in condizione di dire petrolio non ne frega più a nessuno e di conseguenza vabbè se non ne frega più a nessuno crolla. Può essere che dal momento sia diverso. A questo punto io, piccolo risparmiatore, siccome sono arrivato a una condizione in cui, allora, ho capito, e Mr. Trend insiste molto, che ok reddito fisso, ok azioni, ma il mercato ad oggi può essere sfruttato su più fronti. Ok. Uno di questi potrebbe essere, discorso anche del petrolio. A questo punto può essere un mercato che inizia a seguire. Chiaramente se sta crollando così non sono io il primo fenomeno che vuole mettersi da comprare e fermo tutto, lascio che vada avanti, faccia quel che deve fare, però poi potrebbe essere un mercato che con la giusta percentuale e sapendo che stiamo facendo un investimento a rischio, quindi tutte oscillazioni che può salire e può scendere. Però secondo me potrebbe essere già un modo di fare un passaggio in più nell'imparare a vedere le situazioni. Nel momento in cui non sono dentro e vedo situazioni di grossi crolli come questo, a questo punto potrei comunque iniziare a tenerlo d'occhio. Forse è ancora presto per entrare, ma sicuramente tenerlo d'occhio. Certo. Questo potrebbe essere, quindi il petrolio lo possiamo vedere per chi deve investire anche sotto questo punto di vista. Certo. Allora queste sono alcune delle considerazioni sul petrolio che avevamo intenzione di fare già da stamani grazie alle idee di Mr. Trend. Nella scorsa puntata avevamo anche affrontato quasi in chiusura la questione della sterlina. Ma così. Era uscita fuori parlando di oro, parlando con esperti, sfogliando un libro. Che poi la sterlina e l'oro non sono esattamente la stessa cosa. No. Sterlina d'oro. E con Mrs. Trend, dicevamo, arriva magari un regalo. In passato succedeva così per la comunione o per il compleanno o per fare un omaggio a un bambino nato da poco. Si usava regalare la sterlina. Allora, come sta sta sterlina? Se è l'equivalente dell'investimento in oro o se invece non c'entra nulla, insomma. Com'è sto mercato? Allora, prendiamo sempre con la dovuta cautela le informazioni che dà Mr. Trend. Non sono esperto del mercato della sterlina d'oro, per cui... Però vabbè, grazie a internet, internet ha anche dei risvolti positivi. Certo. Per cui, quando andiamo su internet a cercare, questo lo diceva anche il mio amico o quell'altro ma anche ai ragazzi, cioè internet è fondamentale. Basta che andiamo a cercare e capiamo se la fonte è attendibile. Non è perché è scritto su internet va bene tutto. No. Perché tutti possono scrivere tutto, ma non me ne frega niente. A me interessa che quello che ha scritto sia comunque attendibile come fonte. Mi sono andato su un sito che penso sia attendibile, perché comunque poi è il sito che rilascia le quotazioni per la sterlina per vari giornali, per cui penso che sia attendibile. Sì, la prima cosa che ho visto. Allora, prezzo della sterlina. Sterlina oro vecchio conio. Adesso poi questo non me ne intendo. Sì, c'è il vecchio e il nuovo conio, è vero. Domanda, un po' come la borsa, domanda 220,84. 220,84. Offerta 242,39. Spieghiamo. Eh sì, forse è meglio. Ho una forbice esagerata. Adesso vediamo. Ok. Allora, la domanda vuol dire che il mercato domanda sterline, cioè chiede sterline. Cosa vuol dire? Che il mercato è compratore a 220,84. A sterlina. A sterlina. Se tu devi venderle, vai dal compratore. E il compratore ti dice, io per la tua sterlina ti do 220,84. Peccato che. Però, se tu sei, cioè il mercato poi offre l'offerta, offre le sterline a 242,39. Quindi se io la voglio comprare spendo 240. Se tu vuoi comprare la spendi 242 e se nello stesso momento vai a venderla, la paghi, ti danno 220 euro. Come si dice in buon pavese. Il 10%. 9,758. Ok. Il 10% tra la richiesta. Se il mercato è quello, se le regole di quel mercato sono quelle, ok. Cioè, su mercati azionari, lasciamo stare poi addirittura sul mercato delle valute. Sul mercato delle valute si va a lavorare dove la differenza è la terza cifra decimale. Quindi uno è, non so, è quello, la differenza si lavora là. Qui abbiamo il 10% pronti via. Cioè, ma penso che, adesso non vorrei dire, ma... Il peggior titolo non c'era. Ma quasi neanche il peggior titolo in borsa ha una differenza così alta, forse, ecco. Allora... Cioè, nulla toglie che c'è un mercato. Certo, certo, certo. Io non lo conosco e da quello che ho letto non lo capisco. Certo. Ma non lo capisco, ma adesso per un senso emotivo. Allora, intanto poi interviene... Adesso poi ci sarà qualcuno che mi farà causa, però lei stessa. Lo stato di conservazione della moneta. Sì. B vuol dire bello, MB molto bello, BB bellissima, SPL splendida, FDC fior di conio. Per cui da bello, la moneta è liscia e poco leggibile, arriviamo al fior di conio che è da considerarsi il più alto grado di valutazione. E chi me lo dice? Certo. C'è gente che probabilmente guadagna. Certo. Ci specula. E ci specula. Io non... Perché quando la vai a vendere dice, ma per me non è tanto nuova. Sì, quando vai a vendere, ma è bella, quando la vendi è bella e quando la compri diventa fior di conio. E certo. Un mercato serio, detto così, sembra che poi chi lavora sul mercato delle monete sia... No, però probabilmente ci deve essere un organo di valutazione oggettivo che possa Ma non so se è oggettivo, penso che sia soggettivo. Comunque, mediamente, una sterlina la vendiamo 220 euro. Sì. Ok. Quindi c'è quella lì, vecchio conio 220. Sì, perché poi c'è... Ho visto il nuovo conio è post 74, più o meno è 2,21, 2,47. Insomma, la solfa... Cioè, più o meno... Cioè, bisogna vedere quanto pesa quella sterlina lì e sapere più o meno il controvalore in oro. Ecco, lì poi viene fuori il discorso del premio. Cioè, le sterline... Ci sono momenti, non so dirvi come varia questo momento, in cui vengono trattate a premio, si dice. Cosa vuol dire? Esempi, non so, pesa 10 grammi, faccio degli esempi. E pesa 10 grammi, 30 euro al grammo, ok, 300 euro di sterlina. Però viene negoziata tipo a 300 o 330 euro. Vuol dire che ha 10 euro di premio. Da quello che ho visto, poi uno dice allora quando il premio è molto alto teoricamente dovresti venderle, quando il premio poi è molto basso dovresti comprarle. salvo poi ecco quello che è l'andamento dell'oro. Certo. Allora, facciamo quello che è la mia considerazione personale e vediamo di trasportarla su quello che potrebbe essere un risparmiatore investitore. io non devo per forza negoziare, comprare, fare tutto. mister trend, penso che non ha, adesso non so se noi abbiamo sterline, no, non lo so. Io sì. Ah, tu sì, vabbè, io no. Ok, non lo so. Io penso che non comprerò mai nella mia vita da quello che ho capito sterline. Certo. Questo non vuol dire che non è giusto comprare sterline. Io personalmente come mister trend è un mercato che non capisco. Certo. E di conseguenza non lo sfrutto. Certo. Se c'è qualcuno che ha una sua esperienza, capisce, conosce, va benissimo. Certo. Questo deve servire un po' forse anche al risparmiatore. Non dobbiamo per forza fare tutto. Che poi mister trend dica che non possiamo fare solo il tuo fisso è assolutamente vero. Certo. Comunque dobbiamo imparare e abituarci a vedere altri mercati. Però se c'è un mercato che uno per vari motivi non capisce, non deve per forza farlo. Certo. Mister trend, quotazione sterline, pensa che non lo farà mai. Ok. Mi viene da sorridere a quelli che comunque regalavano la sterline ai bambini piccoli come se dovessero dargli un capitale. E no, perché costava comunque. Costava, sì. Era un impegno economico. Attenzione. Facciamo discorso. Ricordiamoci il libro che ha scritto... Come se dovessero farsi la... Attenzione, però. La dote. La dote. Ma no, ma potrebbe essere la dote. Perché il problema qual è poi? Che ci sono anche discorso di... Del grado di rarità. Comune, non comune, raro, molto raro, rarissimo, estremamente raro, conosciuto solo in alcuni esemplari. Sì, è un campo anche a livello numismatico non da poco. Perfetto. Quindi è chiaro che se io ho una sterlina comune avrà un prezzo. Se io sto negoziando su una sterlina estremamente rara, non penso che il problema sia il prezzo per noi sia i 220 o i 240. Avrà prezzi completamente diversi perché se ce ne sono in giro, che ne so io, 10 mila, non è come una adozione in giro a 5 milioni. Certo. Due cose diverse. Assolutamente, sì. Ricordiamoci quello che diceva De Casa l'altra volta. Attenzione, oggi l'ingegneria finanziaria ha permesso di fare cose che in passato non erano possibili. Cioè io in passato o mi pigliavo sta maledetta sterlina o non mi pigliavo niente d'oro per avere l'oro fisico. È vero. È vero. È vero che il discorso di ETF non mi dà ancora l'oro fisico in quanto tale, ma comunque mi permette di sfruttare quel mercato. Se io però voglio per i miei motivi avere l'oro fisico, è chiaro che l'ETF non me ne fai una mazza perché ho un conto che investe sull'oro. Se voglio avere fisicamente l'oro fisico per vari motivi, vabbè allora devo cercare di capire quale può essere un mercato che mi conviene sull'oro fisico. Certo. Quindi diamo a Cesare quel che è di Cesare. Cioè in passato non è che c'erano gli ETF per poter fare gli investimenti. Se volevo regalare qualcosa d'oro regalavo la sterlina. Giusto. Mr Trend ha giustamente nominato l'oro. Arriva i messaggi anche. Arriva i messaggi. Sì. Allora uno dice allora compriamo le lastre o i lingotti. Vedi che arrivano. Allora compriamo le lastre o i lingotti. Potrebbe essere una soluzione. Mentre poi mi sembra che sia un amico di quello del mercoledì. Dice mio nonno tuttora regala una sterlina a Natale alla mia mamma. Visto che vi seguo. Ecco è vero. Ciao. Grazie mille. Non so ecco nonno. Adesso non so come si chiama nonno. Adesso non sai nonno mai uno può dire non so aciccio. Potrebbe essere un nome che mi esce così spontaneo. Magari. Non so ecco tutti i nonni. Tutti abbiamo un nonno che si chiama aciccio. Che magari ecco regala. E' chiaro che ecco il nonno che regala. Può essere che per lui sia con la sua conoscenza. O abbia quel valore. Che dice comunque ti lascia qualcosa. Nella speranza che è chiaro che l'oro era 350-400 andata su a 2000. Accidenti. In quel caso comunque la sterlina andava su. E' vero che io ho un 10 di delta. Ho una forbice. Ecco tra compratore vendito. Sarebbe sempre tra compre e vendito però comunque è salito. Allora avremmo ancora ben tre argomenti ma tutti non riusciamo ad affrontarli. Allora proviamo a fare una cernita. Allora magari riferendo un svizzera e oro ne parliamo settimana prossima. Riferendo un svizzera lì lo facciamo velocissimo perché io poi se andate a vedere ho scritto due cose anche sul sito di Mr. Trend per quanto riguarda. Mr. Trend.it scritto per esteso. Han detto di no quindi la svizzera non ha vinto la proposta di far aumentare le riserve ecco al 20 per cento della banca centrale elvetica. Le riserve aure. Le riserve aure perdono. Le riserve d'oro. Le riserve aure forse ecco al 20 per cento. Comunque sta perdendo un per cento l'oro. Oggi siamo a 1163. Siamo comunque anche lì sotto un altro valore. Ecco riguardate un po' di valore quel 1180 che era un buon spartiacque. L'abbiamo rirotto e ci siamo sotto. Per cui anche sull'oro riprendiamoci sempre il buon indicatore di Mr. Trend. FBL. Mi scusi ci fa vedere il grafico dell'oro? Oh. Il grafico dell'oro sul sito di Mr. Trend lo trovate. Ma adesso non lo possiamo vedere. No. Adesso non so dove andare a prendermelo. No. Sul sito di Mr. Trend. No ok. No. Sul sito di Mr. Trend avete anche il grafico del petrolio eh. Bello lungo il grafico del petrolio. Sono dal 90 in poi eh. È possibile valutarlo. Quindi sono 25 anni di grafico del petrolio. Mr. Trend.it. Potete anche attraverso il sito ascoltare le puntate di Mr. Trend più volte anche se vi siete magari persi qualche pezzettino che abbiamo detto eh potete anche riascoltarci attraverso la radio a 91.8 e 100.5 il mercoledì sera in replica Miss. Sì buonasera. Il lunedì ovviamente sera ma perché? Eh vabbè insomma è lunedì. È lunedì. Sarà perché è lunedì. Eh oltre le 22 dopo l'appuntamento condotto da Marzia Forni e Anna Montanari su Il Sipario. Allora ci sono altre due cose che volevamo affrontare. Vediamo se riusciamo. Andiamo a facciamo il volo se riusciamo. In settimana si è parlato di BTP. Eh l'abbiamo sentito anche nei TG. Eh il prezzo eh scusate il valore dello spread eh è sceso ancora di più ma. Sì questo è vero. Allora siamo sui minimi 133 abbiamo chiuso venerdì adesso in rialzo 134. Questo serve più che altro per farvi capire che quelli che sono troppo sicuri eh si vede. Qualche mese fa in effetti eh girava molto la voce il sentiment come si dice forse in inglese non so se è vero. Giusto. Possibile rialzo dei tassi. Ok. A questo punto eh era buona cosa vendere chi aveva titoli in portafoglio di BTP lunghi. Cioè lunghi vuol dire con scadenza lontana per a questo punto spostarsi. Tecnicamente si dice sulla parte breve della curva cioè quindi su investimenti con tassi di interessi con scadenze più vicine. Quindi due anni tre anni. Devo dire che in effetti chi o perché non non aveva idea come si potesse andare a vendere BTP a dieci anni per cui si è tenuto in portafoglio. O chi dice no io non me la sento di vendere ad oggi quindi quello che era il sentiment molto generalizzato quindi quasi di tutti. Di iniziare a smobilizzare titoli lunghi cioè BTP a dieci anni perché a questo punto avevamo una un ritorno un guadagno anche vendendo il titolo rispetto a aspettare i famosi 100 a scadenza. Devo dire che oggi in effetti sta continuando a prendersi tassi perché se il BTP così da basso vuol dire che non ci sono tante idee di rialzo dei tassi per cui questo ecco c'era quell'idea ma è un po' tutto il mercato ha toppato su quella fase. Questo fa capire che il sicuro nei mercati azionari è morto. Certo. Ok. Sicuro è morto. Dobbiamo avere delle scelte di investimento e strategie e poi adattarci ed essere consapevoli che in certi casi pensavamo ma invece la cosa è diversa. Non intestardirsi. In questo caso chi aveva attenuto ha fatto bene. Io volevo fare una domanda siccome continua lui FBL FBL sembra quasi che sia una catastrofe generalizzata ma non c'è niente di positivo. Orca peppa. Orca peppa. Orca peppa. Abbiamo aperto con un orca peppa e chiudiamo con un orca peppa. E sì è vero o no perché dice no questo è negativo questo non va bene questo è FBL. Dico vabbè ci sarà qualche cosa c'è uno cosa fa? Eh non ha tutti i torti. Cioè no ma il silenzio il silenzio il silenzio il silenzio il silenzio il silenzio il silenzio. Cosa vuol dire? Il silenzio il silenzio il silenzio il silenzio. Il silenzio il silenzio il silenzio il silenzio. Secondo me è molto difficile oggi cioè in questo momento è un periodo in cui è molto difficile prendiamoci l'hashtag delle risparmiatori adolescenti cioè dobbiamo toglierci l'ansia di dover per forza fare qualcosa o di per forza avere investito. cosa voglio dire perché anche lì è vero che la borsa adesso poi non capisco perché nessun telegiornale nessuno dice che la borsa la borsa americana comunque è su record però non stanno più dicendo anche lì bisogna capire perché prima non dico adesso che continuano a salire non dicono più strano non lo so non ho conoscenze in giornali americani però stiamo parlando sì sempre nuovi record se guardiamo indietro magari siamo al 5,5,5,5 sono mesi che non abbiamo un rialzo diciamo di un certo tipo potrebbe essere che non forse non è stato detto abbiamo perso o si è stato parlato poco di quello che poi è stato il rialzo del dollaro contro euro 1,40 1,24 lì probabilmente il discorso dei tassi l'ha già fatto per chi investe ad oggi è un investitore che comunque compra più che fa l'operazione a ribasso probabilmente bisogna iniziare a spiegare anche l'operazione a ribasso forse ecco cioè quindi non mi dici nulla se volessi comprare l'oro è sceso petrolio sta scendendo l'argento sta scendendo la borsa per me è da FBL il reddito fisso accettiamo quello che viene ecco io chiaramente non andrei a comprare oggi titoli a 10 anni cioè in un momento di tassi così basso non sto a bloccare il mio capitale per 10 anni a un tassi così basso però piuttosto che niente ma no preferisco niente preferisco niente a un anno o due anni se comunque i tassi ripartano a questo punto mi sposterò sempre su scadenza breve e sfrutterò il rialzo dei tassi se mi sono comprato un 10 anni me lo tengo fino a e mi perderà di valore per cui non posso neanche andare a venderlo ok perché se quel reddito fisso mi paga il 2,2 e i tassi stanno salendo il prezzo mi scende alcuna che dico lo vende non sfrutto niente per cui a oggi secondo me mai poi mai una cosa molto lunga anche se il breve non mi dà una mazza preferisco una mazza adesso che non essere bloccato con una mazza più un capello non me ne frega niente un capello l'abbiamo istigato hai visto? e il discorso della mazza e del capello spacca assolutamente quindi vede che è uscito investimenti brevi teniamoci lì aspettiamo momenti migliori assolutamente però la Cina il nostro China sta tirando ragazzi il nostro China il nostro China China A sta tirando sta tirando può essere che sia l'unico posto nel non andare qualcosa sta andando per cui comunque sto ben detto ETF sul China la nostra simulazione è stata fortunata forse era meglio se investivamo cosa ha fatto in tre mesi il 20% accidentina forse qualcosa di più non so sono diventati 4 ma qualcosa di più i nostri finti investimenti in Cina sì ecco vedi mi dai le mazzate stamattina mi sembrava un 27 no il 27 per correttezza Mr. Trend è investito su China per cui dobbiamo essere corretti e dire che comunque siamo investiti su 50 euro cioè non ci fai niente l'abbiamo lì è lì così che guardiamo allora sono le prove che servono a Mr. Trend per dare buoni consigli non di investimento ma per capire come funzionano le cose a livello economico agli ascoltatori di Radio Ticino un investimento di 50 euro fatto da Mr. Trend che sta comunque fruttando il 27% allora noi ringraziamo no c'è ancora una cosa se ce la facciamo Raiway ne avevamo parlato nelle scorse settimane allora se fosse possibile capire come sta andando questo titolo che è sbarcato in borsa da poco che riguarda tutto ciò che è infrastruttura di comunicazione potremmo chiamarla così quindi antenne cavi insomma tutto quello che davvero è infrastruttura attraverso la quale è possibile comunicare ovviamente Rai cosa che ci ha confermato Mr. Trend Mediaset aveva già fatto in passato Rai ci è arrivata da poco e chiediamo quindi a Mr. Trend come sta andando se è possibile vedere l'andamento di Raiway direi che non c'è io vi do anche il ticker è il simbolo del titolo per cui se vuoi andare a cercare cercando nei siti che andano grafici il ticker troviamo poi il titolo quindi uno è Raiway ok lo sappiamo scrivere l'altro era AE Towers esatto sono le due Raiway ha fatto i due o tre giorni tre giorni di sparata un po' più rispetto al mercato e poi si è uniformata al mercato oggi perde meno rispetto al mercato AE Towers qui non è un discorso meglio uno meglio l'altro AE Towers anche se poco però è più 0,5 se andate a vedere i due grafici da quel poco che può essere l'analisi su Raiway di 10-15 giorni di borsa dal 19 novembre mi sembra che la quotata sembra che AE Towers se vogliamo investire su quel settore sia un po' più forte di Raiway quindi ha un po' più forza AE Towers rispetto a Raiway se vogliamo investire sul settore delle torri delle trasmissioni di segnali di dati esatto allora questi quindi lì hanno sparato ma poi ecco quello dice l'altra volta poi si è uniformata completamente al mercato chiaro che se oggi il mercato perde l'unerotti e Raiway fa un meno 0,20 a questo punto è un po' più forte ecco però meno 1,52 la borsa aggiorniamo mamma mia e sta scendendo eh sì meno 1,32 sta pareggiando ma forse sono i mercati asiatici che la stanno tirando giù ma no è così peggiora con bancari e pretorifri dice notizia dell'Ansa è l'effetto orca peppa è orca peppa petrolio ancora in forte calo gioeni giusai ovvio le aziende che hanno profitti dal prezzo dell'oro se è il prezzo dell'oro è un po' discorso stiamo attenti quando diciamo sempre state attenti che le aziende che investono che trasformano l'oro non è come investire nell'oro perché comunque poi l'azienda ha sempre tipo quel prezzo di di quel costo di estrazione in questo caso e nei Cypem che lavorano oro o petrolio no dico nel caso del petrolio e nei Cypem che lavorano col petrolio nel momento in cui si va così basso l'oro comunque secondo me estragono dei costi di estrazione se il petrolio non è alto scende il loro guadagno si riduce perché loro hanno un costo di estrazione e nei meno due e mezzo il Cypem è meno tre virgola qualcosa e scende proporzionalmente a quanto scende il petrolio o scende di più? no sta scendendo di più perché se a questo punto e nei due e mezzo il Cypem è in tre e sei comunque il petrolio è meno uno certo a questo punto l'azione sta perdendo di più certo beh ci sono i costi di estrazione quindi già a questo punto lei sta facendo edging diventata bravissima cosa sto facendo quindi quando dice a questo punto sa che potenzialmente va lungo da là per coprirsi un po' e scarica dall'altra parte brava brava non ho capito niente però è carino sentirsi fare questi complimenti ma vabbè può essere che se ho due mercati dici io per difendermi posso comprare questa è una cosa un po' posso comprare petrolio anche se in effetti sta perdendo ma vado al ribasso sull'indice sulle titoli perché in effetti sono più deboli e quindi sul vado al ribasso non ho ancora capito edging si chiama copertura edging si chiama edging vabbè ecco si sul vado al ribasso me lo dovrai spiegare ancora un po' di volte poi casomai visto che poi adesso magari settimana settimana prossima siamo in ferie ragazzi non ci siamo settimana prossima siamo in ferie per cui ritorniamo poi il 15 casomai il 15 provo a iniziare allora a spiegare il ribasso perché col 22 siccome poi abbiamo ospite l'avevamo detto a questo punto lo confermiamo conferma mi dice che viene per cui ecco De Casa quindi è fisicamente l'abbiamo qua in radio possiamo un secondo palleggiare forse ecco avendo già dato un po' di informazione su quello che è il ribasso e magari anticipiamo qualcosa anche sulla leva come cosa vuol dire quando si fanno investimenti a leva l'abbiamo detto ma proviamo a ripeterlo dopo così faremo due puntate salvo poi con quello del 22 magari qualche scenario per il 2015 anche con poi un altro operatore che lavora in una società dove le operazioni a leva e a ribasso chiaramente il pane quotidiano perché li lavorano così potremmo magari forare di un 10 minuti un quarto d'ora non è un grande problema facciamo un post che andiamo un po' più lunghi sulla trasmissione si può fare si può fare tutto si può fare mister trend sono le 10 e 38 come adesso abbiamo già appunturato non è che prendiamo i vizi di quello del mercoledì per coloro che ci stanno seguendo in diretta ovviamente siamo oltre le 22 e 30 anzi magari saranno anche le 23 per coloro che ci seguono in differita allora grazie mille a mister trend grazie a mrs trend per i consigli economici che sono in onda ogni lunedì sulle frequenze di radio ticino pavia 91.8 100.5 a partire dalle ore 10 della mattina mister trend è possibile riascoltare i suoi consigli e i suoi punti di vista anche attraverso il sito www.mistertrend.it scritto per esteso per esteso salutiamo anche chi ci ha ascoltato quindi salutiamo visto che il messaggio era già il signor Lucio e il signor Giglio che sono due persone che stanno ascoltando e l'ho messaggiato in realtà durante la trasmissione grandissimi grazie mille ad entrambi grazie per averci seguito sigla finale sigla finale ascoltiamo bene la sigla ferro azzurro ama anacota acciaio anacota acciaio 10.000 anacota 46 e fammi sapere come aprono le opzioni a quanto le anacota acciaio 5.346 2.000 su e le vendo 2.000 2.000 anacota mister trend consigli di economia e finanza per tutte le tasche su RTP prima lezione in affari non essere emotivo per la borsa ti annebbi al giudizio anacota acciaio che ha chiuso a 51.8 grazie a tutti